Il mio obiettivo è quello di donare alle persone che verranno ad ascoltarci conoscenza e consapevolezza perché ritengo che oggi siano l'arma fondamentale per contrastare questo come altri fenomeni sociali. Così stamani l'assessore comunale alle pari opportunità Francesca De Santis ha presentato il convegno Cyber Parità e Cyber Risk in programma venerdì 29 novembre al Savoia nell'ambito delle iniziative per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Io sono molto orgogliosa di aver incentrato la discussione sulla violenza nei confronti delle donne in rete perché credo che oggi purtroppo sia una piaga sociale soprattutto tra le nuove generazioni. A discutere di una problematica sotto certi aspetti nuova ma che già è assunta agli onori della cronaca la dirigente della Polizia Postale Emanuela De Giorgi, il presidente dell'Ordine dei giornalisti Cristiano Degano, Luisa Caprotti, Francesca Tabacco e la professoressa Natalina Folla ricercatrice di diritto penale all'Università di Trieste. Sono altrettanto contenta di poterne discutere e parlare con questi relatori che ci daranno la possibilità di affrontare il tema sotto vari aspetti giuridico, giornalistico, grazie all'apporto della Polizia Postale e soprattutto ci potranno dare la possibilità di capire come contrastarlo.